Da sempre la tavola è considerato luogo dove intrecciare relazioni, scambiare opinioni, dichiarare la pace. Parte da questa semplice considerazione la nuova idea del gruppo giovani imprenditori di confcommercio Lucca e Massacarrara guidato da Marco Baldocchi. Venerdì 24 novembre a Palazzo Sani si terrà la prima edizione di Eat and Meet, una cena informale tra imprenditori durante la quale i partecipanti cambieranno tavolo tra una portata e l'altra con l'obiettivo di conoscere tutti i commensali presenti all'evento. Diciamo che in Italia abbiamo ancora molto l'idea del ognuno guardare il proprio orticello. Oggi per i mercati che si sono aperti, per la situazione economica che abbiamo è fondamentale fare sinergie, quindi unirsi sia tra aziende che operano nello stesso settore ma anche altre e quindi un'ottima opportunità per conoscere e per farsi conoscere. Testimonial e ospite della serata sarà Manuel Vellutini, vicepresidente esecutivo di Tagetic, invitato per portare agli imprenditori presenti, giovani ma anche già esperti, la sua testimonianza. Questi giovani imprenditori possono apprendere da esperienze di chi ha già fatto determinate tipologie di percorsi come ad esempio il nostro, io credo che la mia esperienza sarà quella di raccontare a queste persone il percorso di internazionalizzazione che ha fatto Tagetic e partendo da Lucca il nostro percorso è nato nel 2007 per portare la nostra azienda ad operare oggi in più di 25 paesi con un fatturato che è oltre il 50% che viene dall'estero e questo quello che vorrei raccontare e condividere con queste persone. Le iscrizioni aperte sia agli aderenti di Confcommercio che non sono ancora attive. Per informazioni basta chiamare la sede dell'associazione. Dopo Lucca nei prossimi mesi It & Meet verrà replicato anche in Versilia e a massa.